Andiamo dallo stadio Lempio, ne ricordiamo il fai? Ciao, buona t vez! Roma da leggere, ricordiamo sempre i veri film Roma da leggere Insomma siamo tutti in campo, la finale ti incanti l'ennesima e probabilmente decisiva per questa stagione dell'attività Assolutamente decisiva, può cambiare e dimorso le due presentazioni, perché l'obiettivo per questa è la quattro posto l'obiettivo annunciato dalla dirigenza di Abruccherecci, sicuramente non condivisa l'allenatore. L'obiettivo diverso, però, la comunità città di Europa del Club, passando tutta l'interno della parte in giro, e che ad oggi è il tuo modo per accedere a questo obiettivo, e la città dell'operazione fondamentale, che da l'inceremo solo per accedere. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, che proprio riguarda chiaramente a momenti, ma non si ci doplo, perché chiaramente il pallottaggio è tra loro, e con molta mobilità ci rinforzi la partita. Dall'inizio il Tecchini Koenzaki vuole i senatori interi. Si, si vuole entrare che si rinforza dentro ai uomini, c'è poco da fare. A quanto pare, sembra Paolo Romano che ci risposta, un po' perché ci mettiamo in attesa sulla fisicità, mentre ci staremo a vedere. A quanto pare, ci sono accorti, perché a quanto pare, a quanto pare, stare qui, a fare sempre la merito, a fare le speranze, e a fare le speranze, e a fare le speranze, però, da questo inizio, 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 a tutti. Ma, la cosa di troppo, una condizione fisica, perché l'Atalanta, spesso, va sotto, ma, seppure, inizio, inizio, che questa è la condizione. Si, è la cosa che mi preoccupazione, l'Atalanta, in vista dell'esperienza, della fragilità, la ragione o altro, o anche sempre con l'occhio di vista fisico, La prima volta che la città è stata un'altra cosa, nel primo tempo, nel primo tempo, nel 30 o al 100 volte, nel primo tempo, la volta che si devono fare i passaggi, non la prende più, perché così va a fare la rinanzacchi, si può fare più forte, e si può fare più. A chiudere il vecchio di Pinzaki, Probabilmente c'è un problema, all'idea di come possa andare questa finale, è probabilmente che non possa parlare l'asso. Sì, è probabile, forse prima di solo parlarne, ma la difficoltà è una cosa più delicata, perché tutti i ragazzi ne sono troppo appunto a partire da tutti i ragazzi, per quanto riguarda tutti i ragazzi. Purtroppo se ne hai parlato. Purtroppo se ne hai parlato, ovviamente non condizionerà l'approccio alla gara, perché non è tutto in questo tipo, non è tutto in questa direzione di cittadina. E' una chiusura, perché basta un punto di nonostante, che si appartisce, sbagliando il suo monetro nel numero, però l'effetto di Sara suora è molto vero al momento che mi fa... Questa sera comunque tutti uniti insieme. Ho giusto per il nostro grande... si fanno differenze da una serie di spaccature io la miseria è rinforzata a una buona bassa grande perché è un tipo di rinforzamento di rinforzamento non dimentichiamo i costi i costi anche della pericolazione noi andiamo a ricordare 130 euro e per le famiglie in questo momento è certamente difficile ma ci possiamo osservare tutti i risposti ma ci siamo felici perché siamo 30 euro e non ci siamo passati con le piccchie però ringraziamoci grazie, erano passati con i programmi e tu ringraziamoci grazie a voi grazie a voi